Li vedete sti grandissimi stronzo? Ora io per colpa di questi qua non posso andare in ufficio C'è la strada bloccata perché questi qua non deciscono che devono fare la protesta E mi devono caccare il cazzo perché io oggi devo andare in ufficio Non ci posso andare, devo stare qua bloccato, almeno ci posso fare Perché qua devono fare la protesta per i vittori Però io che colpa ne ho? Se ci sono stati rincari Mi spiegate io che colpa ne ho perché io non posso andare in ufficio Che colpa ne ho io e mi devono bloccare Io che cosa devo fare? Devo stare fermo qua Ad aspettare in mezzo al nulla perché non posso né andarmene verso l'ufficio Né me ne possono tornare a casa Quindi questa alla fine che mi hanno fatto è un sequestro di persone Con la protesta dei trattori, o no? Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare Quei programmi demenziali con tribune elettorali Paese di dementi Una nazione di cerebrolesi Lui non può andare in ufficio per la protesta dei trattori Mica è colpa sua se ci sono stati rincari I rincari Un paese finito 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 Un paese finito